Musica Ciao a tutti ragazzi sono Diego Sombrero e oggi siamo ritornati dopo non so quanto di tempo Su Call of Duty Mobile Perché sono ritornato qui? Prima cosa perché ho fatto tante visualizzazioni Seconda cosa ho provato a scaricare Call of Duty Call of Duty sulla Play che c'era il disco Però non mi si caricava E ho detto ma visto per tirarci fuori lo sfizio giochiamo a Call of Duty su telefono Ah come vedrete ho un mouse Questo mouse adesso non sto giocando da testiera sto giocando da controller Questo mouse è il mouse del touchpad che sto toccando Qua c'è il coso di registrazione No che bello posso trovare le robe Da un po' che non giocavano ho fatto la stagione nuova come state vedendo qui Cos'è sta roba? Vabbè nuove armi eccetera C'è anche un evento Mamma mia Oh Riscattiamo cesso giornaliero Ci sono anche le missioni giornaliere Ucidi tre nemici usando bombe molotov Gioco due partite emici Sono cecchino Calendario giornaliero Riscatta Un coltello Allora non c'è altro Vediamo Attenzione Morde Otteni subito La ciccom Demon Argent Tutto altro Impresa da polizia E ardente Vediamo il nostro equipaggiamento Vabbè forse il coltello nuovo Ma vabbè Vediamo un po' Vediamo un po' 5 mail Aggiornamento regole Ricompensa classificata Ok Cos'è sta pistola? Una revolver? Figa L'equipaggio subito E la proviamo Allora Ma c'era un altro messaggio del sistema Aspetta Ok Aggiornamento Eccetera eccetera Vediamo i regali Ok Un amico Con un ucchi Un tini di compensa Carta P e arma L'ho inviato anche il regalo Vediamo un po' Di potenziare Il nostro bel fucilozzo Nuovo livello C'è un nuovo accessorio Che è Caricatore aumentato Bene benissimo E equipaggiamo subito il revolver Fa tantissimo danno E giochiamo subito Che non perdiamo più tempo Facciamo una partita classificata Questo è il battle pass Macchine Con uno scar La stagione 5 M Mg Sto giocando da con Noo HWR Ti scherzo Lo voglio subito adesso Now Ci vuole Il battle pass Noo Vabbè Non è che faccia poi così tanto danno Fa più danno la revolver Ma C'è una nuova cosa Vabbè Partita classificata Ah no Vediamo Multigiocatore C'è una nuova modalità Intanto facciamo partita classificata Vediamo Intanto qui c'è una nuova cosa Vabbè Vediamo Nuova modalità Vabbè Facciamo partita normale Nuova modalità Che è Oh Modalità addestramento Attacco dei non morti Gioco delle armi E solo scelchini Wow Ma io farò una prima linea In partita classificata Sono i nabetti I nabetti di mio livello Vai Ci metto un po' a caricare La partita classificata Fa strano giocare Col controller Sul Col pad Sul telefono Fa troppo strano Vediamo Eh Io sono terza recluta Sono tutti seconda recluta Ma C'è anche i sciopponi Questo qua Come vedete Si scioppa soltanto nel negozio E questo lo pass battaglia Sciopponi Questo è di livello 90 Questo è di livello 100 Sciopponi 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 Vediamo Questa mappa Chi l'aveva mai vista Allora ragazzi Mi stava chiamando Carrino spaziale Per chi non l'avesse capito Ma adesso Siamo in questa mappa Che chi l'aveva mai vista È nuova Ma Vabbè Proviamo subito No La granata no Penso che lo tutti Per suggerire arma Devi premere triangolo Nuovo revolveri Intanto la texture È bellissima Madonna Se fa danno Si ricarica Che è una bellezza Madonna Potentissima Stra Iperpotente Nemici Striver potente Star revolver Guarda È devastante Questo non zammacco Come si chiama Vediamo È devastante Oh no La mira però Anche se diego È la mira La mira Vediamo Lui c'è la fucile a pompa Tira la granata Vediamo se prendo qualcuno Sinceramente Non ho preso nessuno Poi adesso mi vorranno Cercare Mi uccide Buongiorno granata Non l'avevo vista Oddio Così ho tirato una granata Oh si è attaccata La granata in mano Muori Ho detto che devi Morirci male Ma non male di più Vabbè Ti uccido male Con il revolver È possibile che la gente Che ho io in partita Non Guarda Basta fare così Non è difficile Ecco Questo forse È quello È quello Un po' più Rà L'ho preso in testa Raga Se hai visto L'ho preso in testa Quello col pompa È forse quello Un po' più bravo Questi sono tutti Nabboni Nabboni Di primo livello Oh adonna Quello col pompa Ne Ecco Eccolo Quello col pompa Ho fatto fuori Perché no Vai Lanciamo questo drone Vediamo se prende qualcuno Scusate un'esplosione Ma non credo sia quella del drone Uh Questo ora si Che si ragiona Andiamo a un'area nemica Madonna Devastante Abbiamo il mouse Dai nemici dove siete Fatevi tritare Fatevi crivellare di colpi Nemici qui Nemici là Ah Ma do il devasto Eh Mi sa che è finita la mitragliatrice No no Non finirò Non finirò Non finirò Grande Giove Subito No 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 Ma era proprio qui Ma dai Vabbè Oddio era qui Non avevo visto Vabbè Sono successe cose Dai Muori 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 con la granata Come non sei morto con la granata Spiega Spiega No Dammi una spiegazione No Lag O O puro caso O lag Perché Hanno imparato le tattiche Adesso vado di revolver Vado di revolver Anche se ho il vantaggio di due punti Ma vado di revolver Guardalo il camperone Spawn killer Sempre ho il vantaggio di due punti Non ho capito il perché Non facciamo domande Che forse È meglio per tutti e due Dai revolver Ma non avevo il revolver Perché Non Come Vabbè Ora Revolver Non c'è in battaglia Poi Questi soldati Si rigenerano In modo In modo strano Morto Morto Oh devo fare Tutto Ma è possibile Che devo fare Tutto io Oh bravo Tizio Muori 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 tizio Oddio Questa non è buona cosa La sirena Non credo sia No 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 Figlio di Buona donna Ultima kill Signori Ultima kill E c'avevo Il robot In mano Vabbè Le robe Notare la mia mira Avevo sparato Il muro Come ha fatto Vabbè I proiettili Rimbalzano Si è capito Questo Questa è la partita Di Call of Duty Vediamo quanto mi resta Nei Ce ne facciamo un'altra Dicede No Va bene Riscattiamo i trofei Si Si primo Primo Scattiamoci una bella foto Bravissimo E ripremiamo X Per andarcene via Sono recluta 4 Ah no Sono ancora recluta 3 Ok 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 Esci Ti piace Craft of Duty Mobile Non voglio Non voglio Non voglio inviare feedback Per favore Tanto devo toccare Qualcuno è online Muoverò bene l'equipaggio A me Anche quando so con l'equipaggio A me mi dà la chat No la chat L'equipaggiamento Vediamo Ah ok Io però mi devo cambiare arma Devo mettere quella di prima Ovvero la SM10 Fa meno più danni ma più stabile Non so se ho sbloccato Che cosa potete Ho sbloccato tutto Ebbene Io direi che per questo episodio è tutto Lasciatevi un mi piace per continuare la serie E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Per favore Nulla Non ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao Ciao